Allora, serve ragazzi Ho installato questa texture pack Come vedete Si chiama Fightful, se mi ricordo Si, Fightful E oggi non sono solo C'è un amico con me, se vuoi salutare Ciao E che commenterà se sto facendo qualcosa di sbagliato Anche se lui non sa molto di mod Allora Incominciamo, in questo episodio Vorrei fare Il Se lo trovo, aspettate No Allora, aspettate, non mi ricordo come si chiama Eccolo qua Il Destruction Catalyst Che si fa Con questi qua I Nova Catalyst Che si fanno con questo E questa roba qua Questa roba qua si può fare Con questo coso Che si fa col carbone Però noi facciamo in un altro modo Mi servono nove diamanti Io ne ho solo otto Allora facciamo così Andiamo nell'Incant Mutation Table Allora, vendiamo Allora, vendiamo questo qua L'oranio non lo posso vendere Questo qua Questo, questo E Che altro di valore mi rimane? Il, questa roba qua Anzi no E' un po' presto per fare il Catalyst Oggi faremo Iniziamo con fare un maceratore Che ci serve Allora, maceratore Eccolo qua Tre punti di selce Prova a sentire la selce Dov'è? Non ho la selce Non ho la selce Ma non glielo neanche fatta imparare Oh, però tengo la ghiaia Dai Eccolo qua La prima Vabbè una basta Gliela facciamo imparare qua Imparata E Questa qui la mettiamo qua Vendiamo No, questi valgono troppo No, questi non li posso vendere Questi qua li faccio imparare Già li ho fatti imparare Vendiamo un pochino di Netherrack Non basta E Eccolo qua Ok, ne abbiamo fatti 13 14 14 scusate E Ora facciamo Ma prima vorrei fare Eccolo qua Tre rotelle di legno Perché Mi servono Si, mi servono per In questo modo non cadrà Ah esce Adesso mi manca pure il legno Allora veniamo Eccolo qua Buongiorno Buongiorno Di nuovo Buongiorno Guardate si Eh si Se metto qualche cosa Non cade Un attimo Forse il volume è troppo alto Sì infatti Sì infatti Allora Oggi Dicevo Volevo fare un maceratore Un maceratore Ok Tre punti di silice Ok Allora tre punti di silice Poi Un machine block Ci serve un machine block Che si fa Con raffine da iron Il raffine da iron Si fa cuocendo il ferro Noi ce ne servono 8 pezzi Taglio nel frattempo Se no viene un video lunghissimo Ho iniziato Ok Ecco Quasi fatto Ha cotto Anche l'ultimo pezzo No Aspettate Questo pezzo qua Nel frattempo Mettiamo a cuocere Un pezzettino di pietra Perché ci servirà dopo Allora eccolo qua Il machine block Ok Tre Punte di silice Allora qua E poi Ah Serve un electronic circuit Che noi andiamo subito a fare Allora per fare L'electronic circuit Questo qua è un albero della gomma? Si bene D'accordo Dobbiamo fare così Con gli alberi della gomma Così Se fanno la gomma Non sono davvero Alberi della gomma Boh Ok Ci leviamo tutte le foglie laterali Ah ecco qua Ho già un pezzettino di gomma Allora Si chiamava Com'è che si chiamava? Tr No Non era così Era Una specie di rubinetto Eccolo qua Questo qua Il trip Il trip Il trippotrap Come si fa il trippotrap Come si fa il trippotrap? Come si fa il trippotrap? Un attimo Non riesco a capi Sì ho capito Ma il trippotrap Perché non mi fa il crafting? Un attimo, cerco sul wiki come si fa il trip trap Dove è la casa? Eccolo qua Cerco sul wiki e ritorno Ok, ho visto Si fa con il legno Ma noi di legno non ne abbiamo Quindi ci facciamo un'ascia Ma noi dovremmo già avercela un'ascia No, non ce l'abbiamo Vabbè, abbiamo un sacchissimo di legno Stavo scherzando Ne abbiamo davvero tantissimo di legno E Andiamo qua Ci facciamo il trip trap E Però Vorreste vedere che si fa Con questa volta 5, 8, 9, 3 5, 8, 9, 3 Non succede niente Vabbè, su questo trip trap Noi andiamo a prendere la gomma Ehm, si Un attimo No, rieccomi No, non era niente Non è saltata Allora Era saltata via la corrente Scusatelo Era Era saltata via la corrente Non Vabbè, comunque non è nulla di che Adesso Vorrei farmi una piantagione Di alberi di gomma Qua davanti Si piantano qua? No Però quella è questa Dexture Pack Allora, qui Wow, che albero colossale Vabbè, per questo video è tutto Da me e Il mio amico Dico Vi saluto E Ciao a tutti Ammazzo un pochino questi maiali adesso Dovrei colpire il toro per sbaglio No, dai Colpiamo il toro Fatto Ammazzato il toro Oh Sono pino Cavolo Tutto la terra Tutto la terra Va bene Adesso Ma sono pino queste mucche Che c'è carenza di cibo Va bene Comunque dicevo Dal mio amico Io è tutto Vado a casa Ciao Ciao